ciao bambini ciao bambine come state bentornati alla rubrica click si crea anche oggi faremo un bel laboratorio digitale prima però di cominciare volevo raccontarvi l'argomento del laboratorio di oggi infatti parleremo di quadri di paesaggio la pittura di paesaggio è diventata famosa a partire dal 1500 in nord europa e solo a metà del 1600 in tutto il resto del continente proprio perché diventò di moda fare il grand tour grand tour è una parola francese che vuol dire appunto grande viaggio viaggio molto lungo perché i ragazzi più in gamba delle famiglie più ricche e facoltose d'europa cominciarono a viaggiare e ad andare a conoscere città e posti lontani da dove abitavano e per ricordare i posti che avevano visitato iniziarono a collezionare quadri di paesaggio delle città che avevano visto e dei posti che avevano visto poi questi quadri andarono ad abbellire le pareti delle case delle più importanti famiglie del tempo e anche noi oggi quindi ci creeremo un quadro del viaggio che vorremmo tanto fare useremo questo sito che ci permetterà di creare anche a noi un piccolo quadro di paesaggio io ho scelto questo fondale per il mio quadro che è artico e infatti a me piacerebbe tanto andare a visitare il polo avvicinarmi il più possibile al polo nord infatti ho scelto questo fondale e lo abbellisco con una serie di particolari che vado a scegliere dal menu qui a fianco tra i palazzi io scelgo tra tutti quelli a disposizione scelgo il faro cliccando sul faro mi compare nel quadro però io non voglio lasciarlo grigio lo farei rossiccio per fare in modo che spicchi tra i ghiacci poi aggiungo un ponticello che metterò tra il faro e lo scoglio anche il ponticello preferirei non lasciarlo grigio e quindi lo colorerei di blu poi aggiungo qualche elemento naturale ecco scelgo le nuvole che vado a mettere in cielo lasciandole però di questo bel bianco candido e poi alla fine scelgo il mezzo di trasporto con cui arriverò al polo e tra tutti quelli che mi vengono proposti io scelgo la mongolfiera perché non c'è nessun mezzo di trasporto secondo me più affascinante della mongolfiera per arrivare al polo la mongolfiera che ho scelto la colorerò di giallo ecco qua questo sarebbe sicuramente un quadro molto interessante da portare a casa dopo il viaggio al polo spero vi sia piaciuto questo laboratorio e vi abbia permesso di viaggiare anche un po con la fantasia a presto bambini ciao da giulia